Tommaso si è addormentato? Beh effettivamente dopo post pranzo l'abbiocco viene però ci sono io che ti sveglio e ti riporto ma facciamo sempre la stessa gag, Dio che mi addormento e tu fai no si è addormentato quindi direi di far parlare di nuovo la nostra Rossella Montemurro che è sempre in collegamento Rossella ci sei? Eccomi Manuela, ecco, dice solo me, ah tu non ci sei, è giusto, è giusto, padrona di casa, io sono un'opera, no no, è vero è la padrona di casa no no ma che padrona, ma che padrona, Rossella leggevo che nel settembre del 2022 sia tu che Marco avete ottenuto il premio un riconoscimento nella sezione letteratura dell'evento Roma premia la cultura sociale in Campidoglio abbiamo anche delle immagini, bravissima Valentina Piccolo e regia, quindi è un romanzo che è stato importantissimo per chiunque Rossella Sì, abbiamo avuto questo importante riconoscimento e alla sua prima edizione un riconoscimento fortemente voluto dall'onorevole Fabrizio Santori del segretario dell'assemblea d'aula Capitolina che appunto ha voluto premiare tutte quelle opere non soltanto libri ma anche cortometraggi, documentari, film che in qualche modo si legavano al binomio partecipazione ed inclusione e quindi il mio tuffo nei sogni proprio per la sua tematica e per il suo protagonista ha ottenuto questo premio e noi ovviamente siamo stati contentissimi, emozionati perché è stato particolarmente prestigioso poi in una location in Campidoglio importante e quindi ci aiuta anche a promuovere al meglio questo libro che così come dicevo prima può essere ad esempio a tante famiglie che purtroppo si ritrovano nella stessa situazione in cui i genitori di Marco si sono trovati alcuni anni fa e colgo l'occasione anche per ringraziare voi per la sensibilità e per poter darci anche l'opportunità appunto di parlare di autismo e di esempi positivi Esatto, infatti tu stavi dicendo far conoscere il libro ma soprattutto questa storia questa storia perché ricordiamo Marco è stato vittima di bullismo che è un tema purtroppo molto consueto nei giovani Sì, purtroppo Marco è stato anche vittima di bullismo e noi sappiamo che il bullismo di per sé è un fenomeno gravissimo, deprecabile e pensiamo quanto possa essere difficile poi vivere una situazione simile se il protagonista di atti di bullismo è un ragazzo che di per sé ha già delle difficoltà quindi ci sono stati episodi particolarmente brutti che purtroppo hanno coinvolto lui e di riflesso anche i familiari però per fortuna ecco sono stati poi superati anche questi brutti periodi che hanno interessato Marco e ripeto è un fenomeno strisciante che purtroppo soprattutto in un'età delicata qual è quella dell'adolescenza si verifica e dobbiamo cercare un po' tutti con una maggiore sensibilità e un maggiore ascolto anche di questi ragazzi che abbiano meno difficoltà Sai Rossella, faccio una brevissima parentesi sul fenomeno legato al bullismo, magari i bulli che casualmente ci stanno ascoltando basta guardarsi allo specchio forse per comprendere la follia di questi gesti ma soprattutto mi rivolgo a chi bullismo lo vede ed è silente, silenzio uguale a complicità denunciate queste cose perché si deve imparare soprattutto da questo anche perché Marco ne è uscito forte ma molti no un altro tema che però vorrei toccare insieme a te Rossella, molto importante che noi ora abbiamo parlato un po' del libro in maniera ampia, in maniera ragionata però è interessante vedere anche come Marco abbia letto queste pagine, quali sono state le sue emozioni, i suoi pensieri perché ripercorrere se stessi attraverso un libro non è una cosa che capita tutti i giorni e viverlo in prima persona deve essere bello, insomma qual è stata la sua reazione allo sfogliare le pagine? Sicuramente tanta emozione e poi grazie al mio tuffo nei sogni Marco oggi riesce anche ad avere un percorso parallelo rispetto alla quotidianità perché questo libro lo stiamo presentando, lui sta incontrando i ragazzi nelle scuole parlando anche di bullismo come dicevamo prima, quindi lui si sta facendo portavoce di un messaggio positivo che si lega anche tantissimo a quello che è un po' un hashtag che lui ha ideato, tristezza zero e quindi col sorriso riusciamo a farci un po' veicolo, a farci portavoce di questo messaggio positivo Beh il sorriso è la migliore arma vincente, ricordiamolo sempre Rossella abbiamo parlato di questo, volevi dire qualcosa? No io stavo pensando di fare una cosa, e lui mi conosci quando faccio così Esatto, quando deve fare così Allora dovete sapere cari telespettatori, che io non mi permetterei mai di interromperti No, figuraci Però quando sto così E perché sto pensando? Lo lanciamo l'hashtag tristezza zero Tristezza zero Tristezza zero, mi raccomando perché sembra una cosa tanto per ma l'importante è affrontare tutto Sempre con la consapevolezza del momento e seppure a volte sia difficile con il sorriso Scusami se ti ho interrotto però secondo me è un appello importante È importantissimo, è importantissimo, dobbiamo utilizzarlo più spesso e ricordarci di non prendercela sempre Per le cose che ti succedono, anche le più banali Giusto Perché bisogna veramente affrontare con il sorriso Come ripeto, ho avuto sempre tanti ragazzi qui, tante ragazze qui che ce lo hanno dimostrato E Marco ne è un esempio Rossella, tu nella tua carriera hai scritto anche tanti altri libri Hai fatto tante pubblicazioni Il primo se non erro, quasi dieci anni fa, siamo nel 2004 20 Del 2004 Ora siamo nel 2022 Noi abbiamo 28 anni Oddio Non siamo più 18 anni È vero, con la matematica io sono sempre stata una frana Mamma scusami, sai lei è professoressa di matematica Quindi è per quello che io ho sempre avuto grandi problemi di matematica E appunto stavo dicendo che nel 2004 la tua prima pubblicazione è I giorni di Scanzano E abbiamo anche qui la copertina E poi nel 2010 Carabinieri a Matera E nel 2019 Calci e pugni sul tetto del mondo C'è uno di questi tre che ti ha più colpito, che porti nel cuore? Sicuramente Calci e pugni sul tetto del mondo Perché anche qui abbiamo un altro protagonista, un altro campione Il maestro Biagio Tralli Campione del mondo di kickboxing E un ragazzo di Matera Che è riuscito appunto a salire sull'Olimpo della kickboxing alcuni anni fa Ed è un campione non soltanto sul ring, sul tatami Ma soprattutto di umiltà Nella sua palestra qui in Matera alla Dynac Center Infatti stanno crescendo tanti altri giovani campioni di questa disciplina Che non è conosciutissima come tante altre Diciamo del mondo delle arti marziali Però è davvero molto praticata E quindi a te piace raccontare la storia anche dei giovani Trattare comunque temi sociali Sì, sì Ed è bello anche quando poi si trovano appunto persone Che hanno voglia di svelarsi Hanno voglia di raccontarsi Non soltanto in quelli che poi sono stati i loro successi Traguardi raggiunti Ma anche nelle difficoltà Infatti anche quella del maestro Tralli Non è diciamo un percorso lineare O comunque non è una strada in discesa Ma è un percorso tortuoso Che però fa capire a tanti Come nonostante le difficoltà Nonostante magari le situazioni di partenza non ottimali Si possano comunque raggiungere traguardi davvero importanti Rossella tu nei tuoi libri racconti sempre gli altri Ci sarà un libro dove racconterai te stessa? Guarda Manuela Non credo Non credo perché È un po' come i conduttori Che raccontano sempre la storia degli altri E mai quella propria Quindi lo comprendono Forse è un po' una deformazione professionale Nel senso che da giornalista Mi piace più ascoltare Inmedesimarmi quelle che sono le storie Magari nel momento in cui si trova Quella particolarità Quel qualcosa che possa far emergere questa storia Raccontarla E quindi sarebbe A parte che non ho mai pensato A scrivere qualcosa che mi riguardasse in prima persona Però preferisco più ascoltare gli altri Chissà magari un meccanismo di difesa Sicuramente Sicuramente no Chi lo sa? Ci sta Vedremo Vedremo Sempre con il sorriso E tristezza zero Tristezza zero Grazie Rossella Rossella Montemurro Grazie mille Buona domenica Grazie a voi ragazzi Grazie Manuela Grazie Tommaso Grazie Siete eccezionali In bocca al lupo E scrivi ancora tante storie Che noi ti leggiamo Grazie 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 Ciao 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 Una grande testimonianza Una grande testimonianza Perché molto spesso anche noi Cadiamo nelle difficoltà quotidiane Ma l'importante è sempre Alzare la testa col sorriso Mi raccomando Stringere pugni come fa Gianni Morandi Anche perché molte volte è anche difficile raccontare certi temi che vanno un po' sul retorico Invece Confine sottile Esatto Come ha detto anche Rossella L'importante è la sensibilità con cui si racconta Spero che noi abbiamo questa sensibilità per farlo Che c'è adesso? Cambiamo un attimo registro Che c'è adesso? Una domanda Hai fame? Io sempre fame Ah perfetto Allora sei nel posto giusto Perché E la nostra prossima ospite Che è qua con noi Dove? Sono stata emozionata Non la vedi? Perché non è inquadrata Non fatela vedere Esatto Non inquadratela perché C'è un video introduttivo Oh mio Dio Iniziamo a capire anche tante cose di lei Vai Iniziamo a guardare E fatevi venire l'acqua di lei in bocca Una nota nutrizionista di nome Jamie Ha affermato che iniziare una dieta di lunedì Porta ad un sicuro fallimento E allora chi siamo noi per contraddirla E per non rifare questi magnum di carbonara? Preparate una carbonara bella carica Come vi ho già insegnato Mettetela in degli stampini Infilate lo stecco E riponetela in freezer per 6 ore Trascorse le 6 ore Riprendete i magnum di carbonara Passateli nell'uovo sbattuto Poi nel pan grattato E infine Friggeteli in olio di semi ben caldo Fino a che non risulteranno dorati e croccanti Se proprio volete esagerare Intingeteli in una cremina di pecorino E ciao core E ciao cura Jamie A cui vogliamo tutti molto bene, vero? Come avete visto sono rimasta da sola perché Tommaso non c'è Io chiamo lei perché è la vera protagonista di questo momento E lei è Stella Menna Bravissima, bravissima Scusami, perché vuoi... Ma l'hai visto che hai fatto? Ma l'hai visto? Perché ha fame, ha fame Ha sentito l'odore di fritto Carbonara nel gelato fritto Il sogno della mia vita che si realizza qua in questo momento Vieni sento qua Aspetta perché se no Samuel... Posso alzarmi? Ok grazie Scusami non mi vuoi lasciare da sola? No, no, faccio un giro Carbonara perché Stella tu sei romana Io sono romana di Roma Romana di Roma Sette generazioni Quindi figuriamoci La carbonara fritta era proprio la ciliegina sulla torta Non potevo non farla L'hai mai mangiata? La carbonara? Fritta Allora, la carbonara fritta è il mio sogno erotico più ricorrente La notte quando... Eh sì, è la carbonara fritta E l'ho realizzato davanti ai miei occhi Guarda, mi sono così contenta che io e Stella ti abbiamo realizzato un grande sogno No, veramente Il prossimo se qual è? La matriciana al forno, cotta tre volte Però ad esempio io non mangio carne Quindi per me la carbonara è un po' un tabù perché c'è il guanciale, giusto? Il guanciale non... Corretto, non la pancetta, mi raccomando Non la pancetta, noi di Milano è un casino Perché ogni volta mettiamo la pancetta e invece no il guanciale Ma ad esempio si può fare la caccia e pepe fritta? Non ci ho mai provato, però volendo possiamo provare La prossima volta porto qui due fornelli, ci mettiamo all'opera e proviamo insieme Mi sembra un'ottima idea, sarò io in conduzione Ok, e io invece mangio Quindi siamo perfettamente in linea Il conduttore deve provare le repitanze, scusa Eh esatto, io sono invece l'assaggiatrice ufficiale Comunque a parte noi che raccontiamo Prima di parlare di te Stella Quanto è un dato che vi ho fatto vedere la carbonara fritta A questo punto vorrei proprio cominciare sul come fare una carbonara Fatta da Stella con tutti i suoi segreti Quindi prendi appunti Sì, anche voi Guardiamo il video Ah oh, direi a Roma ne abbiamo avuti sette Ma di regina ce n'è solo una La carbonara Ecco come la famo noi Tagliate il guanciale a listarelle E mettetele a rosolare in padella senza aggiunta di grassi Fino a che non risulteranno croccanti Sbattete i tuorli con il pepe nero e il pecorino Otterrete una crema piuttosto densa Alla quale dovrete aggiungere un cucchiaio del grasso del guanciale sciolto E un goccio di acqua di cottura della pasta Avendo cura di lasciarla raffreddare un po' prima di aggiungerla Cuocete la pasta in abbondante acqua leggermente salata Scolatela al dente direttamente nella padella con il guanciale E saltatela per farla insaporire A questo punto spegnete la fiamma Togliete la padella dal fornello caldo E aggiungete la crema di tuorli e pecorino Mescolate velocemente E ora inchinatevi a sua maestà In pace con me stesso Andiamo concluso il blocco Andiamo a casa Andiamo a mangiare la carbonara Ma lo sai che è un consiglio molto bello La carbonara o la carbo crema Come dico io Quando si butta No con la fiamma Se non l'uovo si straccia Hai ragione Altrimenti viene la frittata La frittata E non va bene Non va bene Diretti quella bella crema Infatti la sua carbonara è super cremosa Adesso ve la presentiamo bene Lei è Stella Menna Una content creator Una food blogger Ma non sei solo questo Perché poi tu sei laureata in economia Sei una commercialista Quindi insomma E tutto e di più Però è questa grande passione per la cucina Che hai riversato sui social E la tua simpatia Il tuo entusiasmo La tua lucentezza Ha portato poi le persone a seguirti Sì in realtà ecco Io ho fatto un percorso totalmente diverso Cioè ho avuto varie vite Diciamo Poi non so se affronteremo anche la prima vita Certo Affronteremo anche la prima vita Lei ha insegnato tutto E figura La conosco Io studio Non anticipo nulla Però sì sono laureata in economia Ho fatto un master Il dottorato L'esame di stato Quindi una gran secchiona Poi ho aperto questa pagina Allora Non ho fatto nulla Sono qua seduto a mangiare la carbonara Neanche 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 quello Puoi andare A immaginarla E quindi in realtà ho fatto tutto un percorso di studi diverso Poi ho aperto questa pagina di cucina E mi è letteralmente esplosa tra le mani Quindi oggi porto avanti tutte e due le cose Con un po' di fatica Comincio a fare un po' di fatica Però sì Tutti gli effetti sono due lavori Esatto Sembra una stupidaggine fare quel video Della carbonara Ma c'è un grande lavoro dietro Più che altro Una cosa molto saggia che fai Ora a parte il gioco e lo scherzo È fare video brevi Secondo me serve Soprattutto in una società così veloce Immediata, rapida E anche in cucina Trasmettere subito qualcosa Cioè la ricetta qua ti arriva subito Ma è un pensiero che ho avuto già dall'origine di questo progetto O che è arrivato man mano? No, no, è arrivato da subito Perché in realtà io volevo creare ricette Che fossero facilmente replicabili Con ingredienti facilmente reperibili E per persone che come me Lavorano tutto il giorno Arrivano a casa alle 8 di sera E hanno mezz'ora di tempo per cucinare Poi lasciamo stare che io ci metto due ore a fare il video E mangio alle 11 Però vabbè A parte questo Sì, no Diciamo che il format è proprio quello Ricette facili, semplici Pronte in 30 minuti E anche i video devono essere abbastanza smart Esatto Perché se no uno si annoia Esatto Ma infatti Sera Devi sapere che io non so cucinare Tommaso tu sai cucinare? Silenzio Ci arrangiamo E quindi noi invitiamo Voi food blogger Per imparare Ma non impariamo mai niente Perché poi torno a casa Mangio senza cucinare Ma quante volte diciamo Sì, adesso lo facciamo Sì, sì, adesso lo facciamo Pasta al tonno Ma già passa al tonno Sai un step successivo Quando invece cuoci gli hamburger vegetali E lì è la svolta Perché gli fa solo quello Ma invece raccontiamo la tua prima vita Stella Perché tu in realtà nasci come tennista E abbiamo anche delle tue immagini Una piccola Stella tennista professionista Perché tu, esatto Ha vinto campionati italiani A 18 anni era la numero 300 del mondo Cioè, noi abbiamo qua accanto Non solo chi sa cucinare la carbonara Ma anche chi sa giocare a tenni Sai qual è il prossimo step? Al secondo set Nella pausa Tra un set e l'altro Una bella bistecchina Sempre con la cosa Che non posso mangiare Tommaso, devi essere anche Vuoi il tofu? Va bene, il tofu mi piace Quindi raccontaci questa tua prima vita Sì, intanto con queste immagini Già mi fate piangere Perché veramente Come dicevi prima Te sono passati 20 anni Quindi sono passati 30 Quindi aiuto E sì, diciamo che A fine ai 18 anni Ho giocato a tennis A livello professionistico Ho cominciato abbastanza tardi Perché avevo 8 anni e mezzo Quindi non prestissimo Come i bambini di oggi Che cominciano a 3 anni Ma ero mossa da una passione Proprio enorme I miei genitori mi trovavano Con la racchetta Che giocavo al muro da sola Dentro casa giocavo a tennis Proprio, cioè, addosso al muro Con loro che volevano Guardate la televisione Io che giocavo a tennis Non ce la facevano più E niente Poi ero bravina Quindi a 12 anni Ho vinto i campionati italiani Di singole e di doppia A 14 la stessa cosa Giravo con la nazionale A 18 anni Ero 300 del mondo E poi, ahimè, mi sono rotta Tutto quello che mi potevo rompere Mamma mia Ho avuto una serie di infortuni Prima un intervento alla spalla Una microfrattura da stress A una tibia Due interventi al ginocchio Mi hanno detto Ai 18 anni Vuoi mettere la protesi Oppure ci ripensi un attimo Quindi diciamo che è stato Molto difficile smettere Perché era proprio il mio sogno Cioè, io mi allenavo 7-8 ore al giorno Mamma mia Volevo diventare la più brava del mondo E poi non ero mai a casa Perché io 30 settimane l'anno Ero fuori dall'Italia E quindi ritrovarci a 18 anni A casa con una gamba fasciata 6 ore al giorno Su un macchinario Che mi piegava la gamba Di 30 gradi È stato un incubo A livello psicologico Proprio il dover stare ferma Immobile Per un appunto abituato Ad essere sempre in movimento Lì però Ho cominciato a cucinare Ok, quindi diciamo Che le energie che avevi Che non potevi mettere Nello sport Le hai iniziate a mettere Altrove Nello studio E nella cucina Esatto La pagina in quel momento Non era neanche proprio Nei miei pensieri Però Mi rendevo conto Che cucinare Mi faceva passare Un sacco di tempo Quindi oltre a studiare Perché dopo un po' Sì, ok, va bene Economia Microeconomia Macroeconomia Però E questa Questa qua Quella è la prima foto Che io ho pescato Dalla tua pagina Di Instagram Che brutta Quindi sto parlando Quanti anni fa Cioè tu hai fatto Tutto il profilo Instagram Così scrollando Capite quanto ci hai messo Per questo lavoro 12 ore al giorno Eh, perché hai scrollato Il profilo tutto il tempo Esatto Che tempo era? Era il 2018 2018 Capito Sono arrivata lì dietro Ma tra l'altro È una foto normalissima Bruttissima Con una ciambella Facciamola di vedere Una ciambella E un caffè Guarda Viene da ridere Da daissimo E lì ancora non c'era l'idea Di una stella in cucina No, allora Io ho aperto la pagina Sul consiglio di mio marito Che è diventato mio marito Poi nel tempo Dieci anni che mi sopporta Alla fine ha ceduto Perché mio papà Non era stato bene In quel periodo E quindi A me piaceva cucinare Avevo un po' di foto da parte E Federico Mio marito Mi fa Vabbè senti Ma per distrarti Ma apri la pagina Non con l'obiettivo Di farci chissà che cosa Giusto così Come distrazione Metti una foto Orrenda oggi Metti una foto Orrenda domani Alla fine Già un pochino Prima della pandemia La pagina Cominciò a E andate Beh A parte Eccola qua Valentina bravissima Che c'è la mostra Tra l'altro Se continua A me viene una fame Micidiale E ancora devi vedere Tutte le ricette Che ho pescato per te Ma poi abbiamo mezz'ora Però io due cose Vorrei dire La prima Io voglio fare un complimento Per la forza d'animo Comunque Perché se tu hai un sogno Lo persegui E poi per cause Che non dipendono Dalla tua volontà Questo sogno Non funziona Io parlo almeno per me Io mi butto a terra Poi ci vuole tempo Per rialzarsi Per carità Però col sorriso Sei riuscita a ripartire Quindi personalmente Ti faccio i complimenti Perché non è Roba da poco Da tutti i giorni Io invece Ho una domanda Sempre tornando alla cucina Ce l'ho Vogliai farla adesso O dopo la pubblicità? Perché sono le 16 Tommy Adesso faccio come te Non precisa E allora dopo la pubblicità Quindi aspettate A tra poco